Ok, ok, abbiamo scoperto quella che forse gli fa tanto danno, non ti far avvicinare da loro Su di lui, ora, ora Vai Nooo Un'altra vita rimasta, anzi due Peccato, dove mi ha fatto spawnare? Ah, un po' fuori Eh, ma mi devi riaprire però Ma fammi rientrare Ma di... ma serio? Cioè, Minecraft, veramente ti sei buggato così? Non ci credo No, signori, dai, ma che bugg è? Ma veramente, ma veramente mi stai dicendo? Ma... non ho... Non mi è molto chiara questa cosa, un attimino, eh Perché, cioè, lui mi ha battuto, il gioco mi ha sbattuto fuori dal livello Però mi ha dato la possibilità di chillare il mostro Ma che cazzo si fumano alla Mojang? Ma veramente, oh, ma io non lo capisco Cioè, io non lo capisco serio Questi sono pazzi Ma pazzi proprio Per fare una robetta del genere Boh Grazie a tutti れ Forces Grazie a tutti